Quello che vi racconto oggi è una storia d'amore. E una storia d'amore, come tutte le storie d'amore che si rispettino, ha un inizio un po' complicato. Io, quando mi sono iscritto alla facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, nel 2008, quando ti scrivi all'università dici io cambierò il mondo, distruggo tutto, distruggo, rifaccio, spacco. Però il problema nel 2008 era che c'è stata questa famosa crisi. Giornale dopo giornale, mai una crisi così nera, la peggiore crisi del 1945. Tu pensi che sia solo in Italia o comunque che magari i giornali italiani esagerano e poi vedi, oh no, anche il Wall Street Journal sarà una cosa reale. Quello che le persone fanno quando c'è un periodo di disillusione o comunque quando si vuole distaccare la realtà, si chiude gli occhi e si cerca appunto qualcosa che ci facci pensare in un'altra maniera. E nel 2008 la cosa migliore per distaccarti dalla realtà era l'iPhone. Perché era il momento in cui l'iPhone stava entrando nel mercato. E l'iPhone era un nuovo mondo. Perché per la prima volta avevo nella mia tasca tutte le mappe di cui avevo bisogno, tutte le mappe di cui non avevo bisogno. E potevo anche postare su Facebook in qualsiasi momento, in qualsiasi posto in cui mi trovassi. E quindi cosa è successo? All'epoca le app erano completamente diverse da come sono oggi. Per esempio c'era iBook, iBook aveva questa grafica che aveva questi scaffali con le venature del legno, i colori del legno, potevi sfogliare le pagine del libro. Era qualcosa di magico, era qualcosa di davvero speciale all'epoca. Allora io in quel momento ho capito che volevo essere partecipe di questa magia. Volevo essere un designer. Mi ero innamorato del design. Però il 3D e il fare, no? C'è di mezzo il mare. Nel mio caso c'era l'Olanda, perché sono andato in Olanda. Non era facile adattarsi in quel mondo. È andato più o meno così. Ho dovuto intrisarmi. Non è stato abbastanza facile. Però fortunatamente sono arrivato in questa start-up che si chiamava HubSkip e ho iniziato la mia carriera di UX designer. Allora la prima cosa che ho fatto, ho chiamato mio padre e mia madre e ho detto, mamma, papà, sono un UX designer. Dopo 5 secondi di silenzio, un che? Allora ho pensato, ma forse il problema non è solo di amare mio padre, perché secondo Business Insider, UX Interface Designer è il lavoro più complicato da spiegare ai propri genitori, in tutto il mondo. E non è solo il lavoro più complicato da spiegare ai genitori, è un lavoro complicato da spiegare. Quindi ho pensato, ma com'è possibile? Perché il design è qualcosa di così naturale, è qualcosa dentro di noi, alla base della nostra evoluzione come esseri umani. Nel mio caso specifico, io lavoro con interfacce digitali e l'interfaccia non è altro che un insieme di finestre, bottoni e testo che ti permette di realizzare un certo scopo. Nel caso di Facebook, per esempio, è postare sul tuo wall oppure vedere quello che i tuoi amici stanno dicendo in tutto il giorno al mondo. Quindi le interfacce non sono altro che strumenti che noi utilizziamo per plasmare e modificare il mondo che ci circonda. Quindi in una certa estensione, il martello è stata la prima forma di interfaccia, perché ci ha permesso di interagire e modificare tutto quello che ci circondava. Ma allora, se è così naturale, come mai il design e il designer è così complicato da spiegare? Beh, io personalmente penso che il problema deriva dal dualismo tra arte e design. Allora, l'arte per molto tempo è stata patrimonio di una cerchia ristretta di persone. Basti pensare nel Rinascimento, quando la Chiesa praticamente era padrone non solo dell'arte degli artisti, ma della vita stessa degli artisti. e quindi l'arte è stata, anche nei tempi moderni, era comunque patrimonio di una cerchia ristretta di intellettuali aristocratici. Bisogna aspettare il 1920, con Walter Grobius, che è stato il fondatore della Baus, per dare un'idea di cosa sia il design e cosa sia il design. Ora, secondo Grobius, bisognava creare un nuovo metodo di insegnamento che poteva creare un nuovo tipo d'artista. E questo tipo d'artista era qualcuno che era in grado di riconoscere i problemi umani. Riconoscere i problemi umani non perché fosse un genio o un prodigio, ma riconosceva i problemi umani ed era capace di rispondere a questi problemi secondo un metodo preciso. Per la prima volta abbiamo una definizione di cos'è il design. Ma adesso voi dirai, ma allora come si fa a realizzare questo? Perché in certo senso questo vuol dire per la prima volta l'arte passava dall'essere qualcosa di formale all'essere qualcosa di utilitaristico. Quindi l'arte diventava patrimonio della gente, bisognava creare per la gente, la gente al centro, l'internet of the people. Ma per fare questo bisogna spostare l'oggetto della nostra osservazione dal come al perché. Perché il come eleva le nostre capacità tecniche, le nostre capacità artistiche, perché ci permette di capire quale tecnica vogliamo realizzare. Però con il perché riusciamo ad arrivare allo scopo delle cose e riusciamo ad avere un punto di vista. Ora, prima di lavorare per Facebook, lavoravo ad OpenTable. OpenTable è un'azienda in America che si occupa di restaurant reservation. Quindi puoi prenotare un ristorante in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi orario. E uno dei prodotti che OpenTable offer è Guest Center. Guest Center è questa applicazione che sia mobile che web che ti permette ai ristoratori di vedere quante persone stanno entrando nel ristorante, se hanno particolari richieste, possono essere allergie, magari vogliono un tavolo particolare, e permette di vedere dove queste persone saranno sedute basato su un algoritmo che noi abbiamo creato. Ora, quando abbiamo realizzato questo prodotto, era importante capire per chi stavamo realizzando questo prodotto. Quindi siamo andati nei ristoranti e abbiamo visto che le persone che utilizzavano questo prodotto maggiormente erano camerieri e manager di ristoranti. E molte volte i ristoranti sono ambienti bui, perché bisogna creare l'atmosfera romantica e tutto il resto, giusto? Quindi, quello che abbiamo fatto noi, quando creiamo il design, vedevamo come questa app si comportava al buio, proprio per capire, per creare quel design che ci permetteva di avere un design che non affaticasse gli occhi, o comunque un design che fosse piacevole e da usare anche in ambienti poco illuminati. E quindi qui c'è il mio amico Tom che stava provando un po' quel design. Quindi è molto importante, la prima cosa per creare prodotti che siano di successo e prodotti che la gente apprezza è l'empatia. Perché noi ci siamo resi empatici dei problemi di questi camerieri e abbiamo cercato di risolverli nel miglior modo possibile. E uno dei motivi principali per cui abbiamo creato questo tool era perché tutti i tool che i ristoratori usavano all'epoca, l'epoca, due anni fa, erano tutti di questo tipo ed è bruttissimo, giusto? È bruttissimo e anche difficile da usare. Quindi, così come il perché è fondamentale, però bisogna anche non tralasciare il come delle cose, perché con il come arriviamo alla bellezza. E la bellezza è fondamentale perché è stato dimostrato che le cose belle creano una risposta positiva nel cervello, che aumenta le nostre capacità cognitive e ci permette di risolvere i nostri problemi più in fretta. Quindi, le cose belle stimolano la creatività. E quindi, giusto per farvi rivedere un attimo la comparazione, questo è stato dopo, questo è stato prima, questo è stato dopo. Quando la gente usava questo prodotto ci volevano anni. C'era una gente che aveva tre, quattro anni di esperienza solo per capire come far funzionare questo. Quando noi abbiamo fatto questo, dieci minuti la gente sapeva come usare questa applicazione e faceva esattamente le stesse cose che faceva quella vecchia applicazione. Ora, una delle cose belle della bellezza è che noi come esseri umani siamo portati a ricordare molto più facilmente le esperienze belle di quelle negative. Inoltre, è stato anche dimostrato che se abbiamo una buona esperienza su un sito, una persona molto più probabilmente tornerà su quel sito per avere lo stesso tipo di esperienza. E questo è stato una delle basi che abbiamo utilizzato quando abbiamo lavorato al redesign di OpenTable. E in questo caso potete vedere come appena ha aperto il sito abbiamo questa immagine di questa gente che sta cenando o pranzando insieme e questo crea quella risposta emotiva di dire c'è la persona che vede questo sito sta quasi pregustando quel momento quando avrà quella cena o quel pranzo con i propri amici. E un'altra delle cose molto interessanti di questa immagine è che è stato dimostrato che i volti hanno una speciale cioè c'è una parte speciale del nostro cervello che è fatta per riconoscere i volti. Non solo per riconoscere i volti ma ha anche una risposta molto positiva ai volti. E questo è stato un altro dei principi che abbiamo usato quando abbiamo creato quest'altra feature che praticamente ti fa vedere quali dei ristoranti nei vari ristoranti quali amici quali dei tuoi amici hanno già prenotato questo ristorante. E questo è stato dimostrato che ha avuto un impatto molto positivo perché in questo modo le persone erano capaci di vedere quali amici avevano riservato il ristorante e ha permesso di focalizzarsi molto di più su prenotare questo ristorante anziché un altro. E questo è come il sito di OpenTable era prima del redesign. E quindi una volta che abbiamo applicato tutti questi concetti abbiamo avuto il 40% in più di utilizzo nel nostro sito in più la Apple ci ha nominato in vari award e quindi è stato un design che è stato davvero molto positivo. E adesso voi direte vabbè ma è facile per te riconoscere cosa è bello e cosa no perché lo fai per lavoro. Però vi voglio sorprendere un pochettino. La bellezza è dentro ognuno di noi. Ci sono degli ideali ci sono delle proporzioni che sono universali che praticamente accendono quell'area del cervello e ci fanno sentire bene. E queste proporzioni vengono addirittura cioè sono le stesse proporzioni che sono state utilizzate nel Partenone che sono state utilizzate nei quadri di Leonardo che sono state utilizzate nella nella Cappella Sistina e quindi quello che ho fatto oggi per voi ho creato questo design di un blog fittizio e ne ho fatte due versioni. Una versione utilizza quelle che sono le proporzioni le geometrie le armonie umane e l'altra no. E io voglio per la zata di mano voglio che voi mi dite secondo voi o non secondo voi utilizzi quale ma quale preferite. Questa è la prima versione e questa è la seconda. Faccio di nuovo. Prima o prima seconda. Per la zata di mano quanti preferiscono la prima? Quanti è la seconda? La prima è quella che rispetta le proporzioni del corpo umano e che il nostro cervello riconosce come perfette tra virgolette. Quindi la bellezza è dentro è dentro ognuno di noi. Adesso però come possiamo utilizzare questi principi per creare il design del futuro? Beh il futuro io spero che non sia oh mannaggia che non so spero che non sia qualcosa di così perché se se venite in California è questo il futuro ci sta il selfie stick ci sta l'overboard ci sta spero che il futuro non sia questo. però quello che vogliamo fare nel futuro cioè nel futuro la migliore interfaccia sarà l'assenza di interfaccia quindi ci saranno una serie di prodotti e servizi che ci permetteranno di fare delle scelte senza scegliere quello è il futuro del design quindi è proprio il limite dell'empatia della bellezza perché non c'è più scelta e vi faccio un esempio io oggi il 7 maggio sarei dovuto essere a questa conferenza giusto? immaginiamo che creo un evento sul mio calendario il 7 maggio deve essere a Torino senza che io faccia nulla c'è questo servizio che mi prenota il volo mi prenota l'hotel e tutto è prenotato in base alle mie esperienze personali quale compagnia aerea preferisco che tipo di cibo preferisco se voglio viaggiare in business se voglio viaggiare in fissa classe perché ci saranno questi servizi che avranno acquisito talmente tanti dati su di noi che ci permetteranno di fare delle azioni che adesso sono tediose nella maniera più semplice possibile quindi il compito del designer sarà quello non più di creare prodotti digitali o reali ma sarà quello di confezionare queste esperienze che devono essere quanto più semplici possibili quindi il designer non farà altro che spezzettare tutti questi vari passaggi e rendere la vita delle persone più facili ora in conclusione per cambiare il mondo attorno a noi bisogna davvero capire quali sono le esigenze delle persone cioè farsi responsabili essere empatici capire cosa le persone vogliono e Henry Ford che è il fondatore di Ford Motors è famoso per aver detto quando lui chiedeva alla gente cosa volete la gente diceva voglio un cavallo più veloce e questo perché la gente ci chiedeva come fa un cavallo essere più veloce giusto? quindi come 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 invece Henry ha detto perché un cavallo io ti faccio l'automobile quindi è davvero importante focalizzarsi sul perché delle cose e capire quali sono i problemi della gente una delle una delle frasi c'è Benigni che ha detto tante cose però una delle sue frasi preferite lui dice la bellezza è iniziata quando noi abbiamo iniziato a scegliere quindi io quello che voglio dire oggi è scegliete quello che volete fare fatelo nel modo più bello possibile perché l'internet non è altro questo è bellezza e empatia a ogni click grazie 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 a tutti